Vieni a stare con noi. Sally, che ne dici? Te l'abbiamo arredata io e Kim. Qui è pericoloso per una bambina. Ti stavo aspettando. Chi siete? Vieni a vedere come si sta qua. Il suo nome è Sally. Non mi piace questo. Hai fatto un brutto sogno. Starò qui con te. Vogliamo giocare con te, signorina Sally. Spegni le luce. Dov'è? La mia bambola? A loro non piace la luce. Sono orribili. Chi è Sally? Quelle creature. Vogliamo essere tuoi amici. La luce. La luce. La luce. La luce. Sally! Perché quella stanza è chiusa? È successo qualcosa di terribile in quella cantina. Portatela via. Da quella casa. Che cosa siete? E cosa siamo? affamati. Vogliamo te. Non dirmi che ci credi. Solo perché tu continui a negarlo non significa che non stia succedendo. Vogliamo te. Vogliamo te. Vogliamo te. Vogliamo te. Grazie a tutti.